Gianni Rodari, la rondinella del Circo Zenit I suoi genitori erano due famosi trapezisti del Circo Zenit e lui era nato, si può dire, tra le zampe degli elefanti e dei cavalli ammaestrati. Aveva fatto conoscenza con le tigri prima che con le galline e giocato con un orso prima che con un gatto. A tre anni ebbe una parte nel numero delle foche. Le foche si passavano la palla con agili ed esatti colpi di muso e in ultimo la passavano a lui, che si era andato a mettere in fondo alla fila, ma lui scappava e le foche lo rincorrevano abbaiando rauche per tutta l'arena. Risate, applausi e qualche lagrimuccia salutavano il piccolo artista. L'immensa tenda verde e i carrozzoni variopinti che la circondavano erano per lui tutto il mondo, la vita uno spettacolo accompagnato dal frastuono festoso della banda. Aveva quattro anni quando un ubifragio violentissimo squarciò e fece crollare il tendone del circo, in un fini mondo di lampi, tuoni, grida rabbiose di uomini e di animali. Il temporale scoppiò poco prima dell'alba. Era il primo temporale dell'anno, l'annuncio della primavera, e il crociare della pioggia fu salutato da chi lo udì nelle cabine tiepide della carovana quasi con allegria. Poi, improvviso e rapido, il disastro. Tutto non durò che una mezz'ora. Il sole si levò su un desolato panorama di rovine. Lui non si era destato. Uscì buon ultimo dal carrozzone, si guardò intorno e non capiva perché la gente del circo avesse quelle facce stravolte e quegli occhi rossi. Non capiva perché gli accarezzassero in silenzio la testa spettinata. Soprattutto, poi, non poteva capire le conversazioni disperate. Il danno finanziario era gravissimo, e capitava dopo una stagione non del tutto buona. Chissà se il vecchio proprietario del circo se la sarebbe sentita di ricominciare. Non era la prima volta che un circo era costretto a sciogliersi per le conseguenze di un temporale di primavera. Dopo aver girovagato qua e là, confuso e silenzioso, il piccolo tornò sui suoi passi, verso il carrozzone celeste riservato alla sua famiglia, e già stava per metter piede sul primo gradino quando alzò gli occhi, per caso, e vide quella stranezza. Due rondini avevano cominciato a fabbricarsi il nido proprio lassù, sotto la breve gronda del carrozzone. Erano appena all'inizio del loro lavoro, e anche il giorno del resto era appena all'inizio. Indifferenti al disastro, indaffarate, precise, volavano in su e in giù, tra il tetto del carrozzone e il terreno intorno al circo. Trasportavano un filo di paglia, un infimo trucciolo, le cento piccole cose che la natura e l'istinto insegnavano loro a scegliersi come materiale per murare la loro casa. Il circo, con le sue stalle, i suoi depositi di foraggi, il suo pittoresco disordine di cose, doveva essere per loro una miniera inesauribile. Bastavano pochi frulli idali per un fruttuoso viaggio. Volavano, tornavano, rivolavano subito via, senza concedersi un attimo di riposo. Il bambino non conosceva il segreto di quel lavorio. Aveva visto leopardi e cammelli, lui, e mai rondini. Non gli era mai capitato di accorgersi di quei piccoli buffi uccelli dalla coda spaccata. La domatrice delle foche aveva un pappagallo di cento colori, ma se ne stava sempre immobile sul suo trespolo a predicare con arroganza cose incomprensibili. La danza instancabile delle due rondini era ben altra cosa, ed era il suo carrozzone quello. Era come se le rondini avessero saputo che lui ci abitava e avessero deciso di andare ad abitare con lui. Non si accorse nemmeno che lo chiamavano. Non si voltò. Se ne stava lì, col naso e il ciuffetto per aria, curioso e confuso, come per ascoltare un misterioso racconto, in una lingua sconosciuta. Ehi, ti sei incantato? Era la mamma che lo scuoteva per le spalle con tenerezza. E subito dopo era anche il babbo. Era il grasso clown del carrozzone accanto. Erano i saltatori arabi, il domatore dei leoni, tutti ad additarsi le rondini che si facevano in nido sul carrozzone. Hanno scelto un bel giorno per unirsi a noi. Prima con sorpresa, poi con commozione. La gente del circo si affollava intorno a quello spettacolo di buon augurio e ne beveva avidamente con gli occhi la consolazione. «Cosa sono?» domandò finalmente il bambino. Così apprese che erano rondini, e seppe quel che facevano, e seppe che sarebbero rimaste per molto tempo con lui e con il circo. E a suo tempo le vide volare stridendo intorno al padiglione ricostruito e alle sue bandierine iridate. Imparò i primi salti mortali pressappoco negli stessi giorni in cui i rondinini nati nel nido imparavano a volare. «Ha capito adesso?» mi disse il vecchio clown sorridendo. «Perché ho scelto quel nome d'arte?» Già, avevo dimenticato di avvertirvi che questa storia me l'ha raccontata il clown rondinella del circo Zenith.